in quest'ultimo esercizio vediamo un effetto che sicuramente risulterà molto comodo specialmente per coloro che lavorano nel settore dell'archivitz ovvero l'effetto di raindropping su un vetro in questo caso su una finestra tale effetto si può replicare senza problemi con il particle flow naturalmente si può replicare anche con i sistemi tradizionali naturalmente utilizzando una via un pochino più tortuosa di conseguenza abbiamo una scena con un muro che sarà il nostro wall che sarà il nostro deflettore la nostra windows e un glass emitter il quale è comunque un emettitore vediamo che abbiamo un blizzard rain con applicati alcuni space warps che mi sono creato esternamente che sono di fatti un gravity per il nostro in questo caso per il nostro vetro un drag in maniera globale un global gravity che agisce di fatti collogato al nostro blizzard e dei deflettori universali che sono utili per far rimbalzare le nostre particelle sul nostro muro o comunque anche sul nostro nostro vetro un wind che animato con intensità diversa per creare un effetto diverso di variazione di fatti della pioggia e un p array che va a generare delle particles sul nostro glass emitter possiamo anche chiudere questo nostro blizzard poiché naturalmente era soltanto di contorno per avere in camera con una camera che va su per averlo soltanto di riferimento vediamo qui di fatti l'effetto del nostro blizzard volendo il nostro blizzard potrebbe avere anche un effetto di particle spawn di fatti ha applicato anche tale effetto in maniera molto lenta però si può anche non applicare in ogni modo andiamo un attimo a nasconderlo poiché andiamo a nascondere anche il nostro muro poiché il nostro effetto riguarda principalmente il vetro di fatti sul vetro noi abbiamo un glass emitter il glass emitter è associato al nostro p array il quale ha un gravity e un drag in questo caso il drag è quello globale mentre il nostro gravity è soltanto un gravity a windows con una gravità molto inferiore in modo tale che le particelle siano un pochino più lente possiamo vedere di fatti in viewport come la generazione delle particles e la sua discesa sia molto più lenta rispetto a altre tipologie andiamo a vedere com'è impostato quindi il nostro il nostro p array selezioniamolo tranquillamente ok allarghiamo la finestra il nostro p array ha il glass emitter come sua isolare il suo emettitore generazione e poi è impostato con delle impostazioni su tutta la nostra superficie la visualizzazione a dot particle generation use rate 50 una velocità molto bassa una variazione che è nulla in questo caso il test stop basato a 50 in modo tale che quando arriva oltre le particles scenderanno e basta quindi non ci sarà l'effetto di generazione continua questo perché comunque sono anche tagliate la nostra camera ma se dobbiamo lasciarle visibile il emettitore sarà visibile sempre un size pari a 0.5 con una leggera variazione volendo possiamo dare anche una leggera variazione per esempio a 25 per cento e un grow e un fro a 8 come tipologia ho scelto un meta particles il meta particles volendolo si può andare a visualizzare come mesh in questo caso vediamo che la mesh è molto piccola e possiamo andare a aumentare a lavorare per esempio su la tensione per aumentare leggermente questo effetto sicuramente l'effetto di di raindropping è un effetto che si può ottenere molto facilmente con altri software per esempio real flow per la simulazione di liquidi oppure con il p flow per se vogliamo rimanere all'interno di 3dx max volendo si possono utilizzare anche altre tipologie di temi per creare l'effetto della mesh come se ad esempio frost o altre ancora ad ogni modo vediamo comunque con tale effetto che possiamo realizzare un effetto gradevole e sicuramente utile per ai nostri scopi queste soluzioni sono delle soluzioni sicuramente molto comode quando non vogliamo utilizzare delle plugin o non possiamo permetterci di utilizzarle poiché magari non rientrano nel nostro budget dove stiamo lavorando in ogni modo interessante è magari anche la possibilità anche in questo caso di creare degli spot se proprio vogliamo su alcune magari solo su alcune quindi potremmo duplicare il sistema generare una posizione diversa tramite il nostro sistema di uniquest di seed e volendo quindi potremmo generare una disposizione diversa e creare anche un spot trail in questo caso alle nostre particles del pro naturalmente applicando poi un materiale come l'acqua si può andare a ricreare perfettamente un effetto di goccia sul nostro sulla nostra superficie grazie